Un ponte di pace e accoglienza che unisce e abbatte i muri dell'indifferenza. I ragazzi scout del noviziato gemellato di Sant'Antonino del gruppo Piacenza 1 e quelli di San Lazaro, Piacenza 4, hanno costruito un ponte di legno sul modello di quello di Leonardo da Vinci in piazza Sant'Antonino per far riflettere la cittadinanza in un periodo difficile e ricco di sfide. Abbiamo realizzato questo ponte in omaggio alla città e a Piacenza perché vogliamo utilizzare l'immagine del ponte come simbolo di superamento di questo periodo un po' negativo e triste che tutto il pianeta sta affrontando. In che modo l'avete realizzato? Abbiamo deciso di costruire il ponte di Leonardo che è un ponte che non ha bisogno di particolari legature ma in questo caso sta insieme attraverso una serie di incastri. È stato abbastanza difficile perché comunque preparare tutti gli incastri su misura per i pali non è semplice però in un paio di ore siamo riusciti a completarlo. Il nostro ponte vuole essere un invito alla cittadinanza a farsi scoprire per la cittadinanza. Vogliamo chiedere alla cittadinanza di dare il proprio significato a questo ponte così come noi in primis con gli scout l'abbiamo dato. Quindi invitiamo davvero tutti a venirlo anche solo a vedere e a provare a scoprirlo tramite il QR code che si troveranno davanti.